Ciao a tutti, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro posso essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che andremo a vedere oggi sarà che cosa pensa la tua persona di interesse. Andremo a vedere un attimino appunto cosa pensa, che cosa prova e se ha intenzione di fare qualcosa insomma nei tuoi confronti. Quindi abbiamo tre tipi di scelte. La prima scelta è questa sodalite, la seconda scelta è questo quarzo ialino e la terza scelta è questa fluorite. Ok, iniziamo subito con la prima scelta e andiamo a vedere che cosa pensa la persona di interesse della sodalite. Ricordo sempre che sono previsioni generali, fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono. Bene, andiamo a vedere cosa pensa la persona di interesse delle persone che hanno scelto l'asso da lite. Temperanza. Allora sicuramente ha un'idea di voi di una persona perbene. Ok, otto di spada al contrario e il cavallo di bastoni. Come dicevo sento che ha questa sensazione di voi che siate una persona perbene, una persona pulita, no? Come si dice in gergo. Una persona che magari è decisa, si sente forte, si sente al fuoco dentro letteralmente, una persona magari vi piace ballare, vi piace insomma stare in compagnia, fare festa e sento che vi percepisce come un'energia che non si fa molti problemi o magari glielo state nascondendo che vi fate tanti problemi. Comunque non vede questa macchinosità diciamo del lotto di spade. Lotto di spade sappiamo che al dritto parla di quello che sono i pensieri autolimitanti, pensieri che ci ingabbiano. Mentre essendo qui al rovescio è come se lui non vedesse tutta questa sorta, questo lato vostro ecco. Anzi, vi vede molto in equilibrio come persone. Probabilmente voi non lo date molto a vedere, non lasciate trasparire quello che pensate, ok? Magari siete persone sempre solari che ridono appunto, che hanno voglia di far fessa e quindi non si percepisce questo vostro lato cerebrale. Allora, nella seconda linea abbiamo un quattro di coppa al contrario, un fante di spade e un re di pentacoli. Sento che c'è una sorta di stabilità da parte di questa persona, ma è come se non fosse ancora totalmente consapevoli, consapevole, scusate, di quello, più che consapevole, cosciente, di quello che, dell'opportunità che avrebbe con voi. Per qualcuno potrebbe essere una persona con questo fante di spade, potrebbe essere una persona che controlla, ok? Quindi magari è una persona che non si fida molto e quindi, come dire, ha bisogno di tante conferme. Può essere che non si fidi perché sia una persona insicura, mi verrebbe da dire. Nonostante l'apparenza magari sia quella di essere un re di pentacoli, in realtà il quattro di coppa al contrario, con il fante di spade, mi danno proprio da pensare che sia una persona che non ha tutta questa fiducia, che non si rende conto, insomma, delle possibilità che ha con voi, intendo. Andiamo avanti, vediamo se farà un certo tipo di azione. Wow, re di coppe. Vediamo un po'. Perché comunque c'è un sentimento, c'è qualcosa che prova, insomma, per voi. Ed è anche una persona, vedo che comunque è una persona accolta, è comunque in contatto con quello tra i bastoni, che sono i suoi sentimenti, le sue emozioni, è in contatto con quello che l'ho o la fa star bene. Ancora una carta per piacere, grazie. Grazie. Queste le chiudo che sono tante. La morte. Quindi avrebbe voglia, quello che vedo io, avrebbe fortemente voglia questa persona di fare il passo, di attraversare il fiume, di fare questo cambiamento, di avere questa rinascita, ok? Non vedo che faccia un reale movimento nei vostri confronti, ma è ancora come se stesse studiando un pochettino la situazione e stesse cercando di capire come muoversi, ok? Sicuro che ha un progetto in testa, cioè nel senso è lì che sta friggendo, mi verrebbe da dire, per un certo tipo di rinnovamento, però per adesso è ancora abbastanza statico, quindi non vedo un reale movimento, diciamo, da parte sua. Vediamo che altro messaggio vi danno questi oracoli. Vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Per gli amici che hanno scelto l'asso da lite, una carta per piacere grazie, per completare il messaggio. Wow. Allora, tre carte. Qua mi parlano di occhiali da sole. e mi parla proprio di quello che è il guardare, l'osservare. Mi parlano anche un po' di quello che è lo stalking, il gaslighting, ecco perché c'era il fante di spade che mi parla di controllo, e mi parla anche di quello che è un certo tipo di percezione. La seconda carta mi parla di un'ascensione, dice trascendete gli ostacoli, imparate, espandetevi, c'è una nuova fase, preparatevi per l'unione, ecco, quindi è in movimento, ma per adesso diciamo che è ancora un movimento nella testa, fisicamente ancora non fa molto. E poi mi parla di quelle che sono le chiavi in un anello, mi parla di quelle che sono le diverse opzioni da poter scegliere, mi parla anche di quello che è la scelta non convenzionale, magari per qualcuno questo lavoro di controllo, di non vedere magari le opportunità, è proprio perché si cerca di guardare le cose in modo quadrato, in modo, come vi posso dire, scontato, senza magari usare la fantasia e trovare soluzioni alternative, per esempio. Quindi ecco appunto pensate a quello che è, diciamo, una potenziale soluzione alternativa. Bene, cari amici della sudalite, questo era quello che avevo per la vostra persona di interesse, spero in qualche modo che la lettura, insomma, vi abbia ispirato, vi sia piaciuta, se sì mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi ringrazio tanto per aver trascorso il tempo qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E andiamo avanti ora con la scelta numero due, il quarzoialino, ok? Quindi andiamo subito a vedere, anche perché le persone che hanno scelto il quarzoialino, che cosa pensa, che cosa prova e cosa farà la persona di interesse. Ricordo sempre che sono letture generiche, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e il resto lasciatelo andare all'universo. Bene. Mostrami la persona di interesse delle persone che hanno scelto il quarzoialino. Ok. Dieci di denari. Dieci di denari mi parla di quello che è una fine di un ciclo, il giudizio e il sole, wow! La fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Per qualcuno è una carta che mi parla anche di famiglia, di un'unione familiare, ma le famiglie di tipo allargato, ok? Quindi le famiglie numerose, se vogliamo. Il diavolo, la ruota della fortuna, un sacco di arcani maggiori. Da parte, wow! Il tre di coppa al contrario, il mago. Da parte di qualcuno c'è stato una sorta di risveglio spirituale per quello che riguarda il giudizio, o potrebbe essere il ritorno di qualcuno dal passato o il ritorno di qualche situazione dal passato, perché comunque c'è anche il sole, il sole mi fa venire in mente quello che è il fanciullo interiore. Quindi può essere che ci sia per qualcuno l'idea di famiglia con voi, o che sia semplicemente un ricordo di una famiglia passata, insomma, che fa espandere quello che è la coscienza della vostra persona di interesse. Quello che si vedo è che c'è un diavolo e una ruota della fortuna, quindi c'è un qualche cosa che si sblocca a livello emotivo da parte di questa persona, è come se cambiasse la sua voglia di socializzare, per certi versi. Il cambio della fortuna sono quei cambi repentini, molto veloci, sono cambi inaspettati, ok, ma che sono pieni di gioia, che portano comunque notizie positive, insomma. Wow, 2D Cop, ma che bellissima stesa qua il soialino. Guardate, quello che sta manifestando è l'unione e la famiglia con voi. C'è qualcuno che sta pensando di allargare la famiglia, c'è qualcuno che sta cercando di manifestare un'unione, un compromesso, ok? Quindi carte molto belle. C'è questo diavolo che mi parla comunque un po' di quello che sono le energie di controllo, magari ci sono parecchi sentimenti di gelosia, ci sono insomma degli agganci energetici non troppo sani, magari un po' tossici, però comunque sono bellissime carte, nel senso che la persona è come se, mi viene da dire, si fosse, avesse consapevolizzato che è con voi che vuole questa famiglia, che siete voi che riaccendete quella fonte, quell'essenza in lui o lei, ok? C'è comunque questa ruota della fortuna che mi parla di quello che sono i cambi, è vero che c'è un po' la situazione pesante con questo diavolo, ma quello che si vede è che è intenzionato, o intenzionata, a manifestare quest'unione, questa nuova gestazione di questo progetto con voi, ok? Bene! Belle carte, sono contenta. Vediamo che altro messaggio c'è per voi con questi oracoli, vediamo un altro messaggio che vi può essere utile per riflettere, sposto solo un attimo queste, ok, andiamo a vedere, una carta per piacere, grazie per gli amici del corsoialino, grazie, mi parla di un cuore con una chiave, quindi quello che ci fa capire questa carta è che bisogna comunque lavorare su quello che è il quarto chakra, bisogna aprire, sbloccare quello che è il chakra del cuore, bisogna stare insieme, perché insieme si crea la perfezione, aprire il cuore vuol dire aprirsi il cuore l'uno all'altro, perché se lo fa solo uno è un po' una via senso unico e non porta molto lontano, però ecco questa carta mette proprio l'accento su quello che è l'aprire il cuore, aprirsi con le proprie paure, le proprie debolezze, anche col proprio amore, le proprie gioie comunque. Bene cari amici del corsoialino, questo era quello che avevo per voi, spero in qualche modo che la lettura vi abbia aiutato, vi abbia illuminato, se sì mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete, io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao! Andiamo avanti con l'ultima stesa, la terza stesa che è quella della fluorite. Ok, e anche per gli amici della fluorite andiamo a curiosare che cosa pensa la vostra persona di interesse, cosa prova e quali azioni compierà verso di voi. Ricordo sempre che sono letture generali, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e quelli che no lasciateli all'universo. Andiamo a vedere, abbiamo un 7 di coppe, un 8 di spade al contrario, e un 4 di coppe al contrario. Questa persona è un po' come se non vedesse via d'uscita, no? Da un lato si sta schiarendo un po' le idee, dall'altro non vede né aiuti né alternative. Probabilmente è una persona che si trova obbligata a stare in una determinata, a ruota della fortuna al contrario, a stare in una determinata situazione o a dover fare, o a dover, magari ha effettuato una determinata scelta perché pensava di non avere un'alternativa. Poi abbiamo la ruota della fortuna al contrario, che mi dice che comunque le cose non cambiano, che le cose non vanno avanti, anzi mi parla forse di quello che è un po' di energia stagnante, e queste due carte mi fanno proprio pensare che questa persona stia per conto suo, ha bisogno proprio di prendersi un tempo per ricaricare le pile, per fare un lavoro sul suo subconscio, per cercare di capire i lati nascosti, le zone d'ombra che ha, sta proprio cercando di fare un lavoro, ma in realtà è un po' si sta un po' autoboicottando da solo o da sola, di fatti c'ha queste barriere difensive, ok, si sta proprio difendendo da quella che potrebbe essere l'energia di questa regina di bastoni, e non è escluso che siate voi, 10 di spada al contrario, si ha una sorta di reticenza nell'affrontare il proprio potere e fuoco personale, mi verrebbe da dire, deve ancora comunque anche con questa carta elaborare un qualche tipo di disappunto, di sofferenza, di tradimento, può darsi che abbiate bisticciato, e che magari veda determinate cose che vi siete detti come un affronto personale, sta ancora comunque cercando di arrivare un po' a capo di questa cosa, non vedo un grosso trasporto nei vostri confronti e neanche uno slancio proprio nei vostri confronti, è ancora lì un po' perso nei propri pensieri, ha questa energia di tipo stagnante in testa proprio, dentro di sé, per certi versi sta cercando di fare chiarezza mentale, per altri invece non vuole vedere determinati lati di sé che dovrebbe ripulire un po'. Ancora una carta da parte degli oracoli, per piacere, grazie, grazie, non abbastanza, qui mi parla di qualcuno che è frustrato in una relazione, mi parla di quello che è un autosabotaggio, che è un po' la carta del lotto di spade, mi parla di quello che è la gelosia, di quello che sono sentimenti di poca confidenza, è come se non ci si fidasse abbastanza dell'altro, che in questo caso è la vostra persona di interesse che non si fida abbastanza di voi. Bene, caro amico della florite, questo era quello che avevo per te, spero che in qualche modo la lettura abbia potuto aiutarti, se si metti un like al video, iscriviti al canale e condividi. Io ti ringrazio tanto per il tempo che hai speso qui con me, ti mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!